ciao ragazzi sono spencer oggi sono con questo nuovo video nella mappa non so che mappa sia motion blur 3 allora è da un po' che non gioco a minecraft tipo da un bel po' di giorni ormai e niente raga questo è un sg non so quanti ne farò ancora comunque proverò anche se gioco poco a minecraft a portare almeno un sg a settimana anche se non vi prometto niente però ci provo comunque e perché mi sta abbastanza annoiando sto gioco e volevo iniziare a iniziare appunto un altro nuovi giochi e al massimo portarle anche sul canale per ora sto giocando un po' a paladins a con tuta uno un po' quel che capita mentre volevo appena usciva come si chiama destiny 2 portarvelo sul canale in modo più continuo attraverso live pezzate varie quindi per ora appunto ci sarà questa piccola inattività perché semplicemente devo ancora capire un attimo su che gioco basarmi perché non mi piace solitamente stare su più giochi nel senso giocare a quel che capita o quando voglia e quindi mo devo trovare un gioco su cui appunto giocare possiamo dire nerdare però non proprio nerdare basta giocare allora comunque il topic di oggi è sword art online che è un'anime appunto che mi è piaciuto abbastanza possiamo dire anche molto più che abbastanza allora vi spiego un attimo la mia storia con gli anime io gli odio gli ho sempre odiati e niente con questo anime ho imparato appunto appassionarmi o pensavo almeno di appassionarmi perché allora io fino appunto a una settimana fa fino a venerdì odiavo gli anime perché semplicemente avevo visto come primo anime one punch man e che era carino anche però dopo un po di tempo non ci capivo più niente ho detto che due coglioni 500 episodi non ci capisce più un cazzo dopo il duecentesimo dopo il centesimo dopo soprattutto io che ho una memoria di merda e allora l'ho lasciato perdo dopo ho iniziato a guardare naruto mi è interessato abbastanza mi piaceva ero piccolo avrò avuto 10 anni 11 anni però stessa fine nel senso non ci capivo più niente dopo un po perché troppi episodi troppe cose e quindi non c'ho neanche più voglia di appunto mettermi lì e tornare indietro perché dopo un po' diventava lunga non sono anche jitter cliccando adesso perché non c'ho voglia quindi comunque e quindi da lì ho avuto un diciamo un pregiudizio abbastanza forte sugli anime e non ho mai guardato in modo non ho mai guardato un anime da quel periodo in poi mai più proprio zero un po di tempo fa sono stato male tipo venerdì sabato e quindi era a casa e andando su netflix non sapevo che vedere visto che avevo finito già un paio di serie nell'ultimo periodo e non ce n'erano di altri carini e loro ho detto guardiamo sto anime che avevo visto un video su youtube lo sto guardando perché avevo visto tipo un video parodia su youtube e niente ho letto il nome ho detto vabbè vediamo la parodia comunque non è una cosa una cacata e allora l'ho guardato e niente mia i primi episodi mi sono piaciuti abbastanza e sono andato avanti e nel giro entro sabato sera avevo finito la seconda stagione quindi perché perché ragazzi è piaciuto tantissimo ma troppo veramente mi sono messo dopo a cercare quando usciva il 3 ho scoperto che c'era addirittura un film io proprio non lo sapevo neanche che però è uscito è uscito solo il 13 e il 14 gennaio ciao giugno e non c'è ancora italiano non era reso pubblico in blu ray c'è solo in giapponese e vederlo con i sottotitoli no per ora aspetto se entro natale non non esce almeno con non esce in italiano io non lo guardo con i sottotitoli altrimenti preferisco aspettare un po' così almeno me lo rovino troppo perché comunque guardarlo in giapponese raga non mi ispira tanto allora ho detto vabbè allora gli anime sono fighe andiamo a vederli ho guardato altri due anime molto in teoria molto belli comunque che hanno un grande pubblico soprattutto in Italia che uno riguarda tipo il giappone che vengono chiamati Eleven non mi ricordo neanche il nome l'altro di questo tizio che ha tipo che è adulto e vede un fantasma di una sua vecchia amica che era morta e lui aveva insultato vabbè non lo so comunque ho guardato 3-4 episodi di entrambi non non mi sono piaciuti non dopo ho provato anche con altri anime un po' a caso però raga non è che Sword Art Online mi ha fatto apprezzare gli anime però Sword Art Online come anime mi è piaciuto tantissimo non so perché forse un po' per la storia un po' perché era fatto bene dopo aveva una cosa che mi piaceva soprattutto era il disegno perché alcuni disegni sono veramente inguardabili degli anime tipo ad esempio quello lì dei giapponesi che si chiamano Eleven non mi piace il disegno perché sono persone troppo deformate nel senso sono molto alte e magrissime e quindi sono strade formate e dopo quindi no invece Sword Art Online SAO vabbè facile era un po' più forse anche per quelli in parte non solo adesso volevo provare a vedere l'attacco dei giganti che è anche un'altra serie in particolare ho visto un accordo di apuri su quella però è più versione fumetto lo stile di disegno con tutte le ombreggiatore strane non lo so come se mi piace o cosa però posso sempre fare una prova e niente raga moltissime persone so di questi commenti che sono appassionati di anime quindi dire che non mi piacciono gli anime è veramente un massacro ma niente a me non piacciono l'unico che veramente mi ha fatto impazzire perché raga in due giorni ho finito 50 episodi e appunto è stato SAO però è l'unico perché non ho la più parola idea raga e se qualcuno sa un posto dove vedere il film in italiano me lo dica visto che so che tra poco esce la terza stagione non tra poco sta per uscire e quindi volevo vedermi prima il film della stagione e visto che ho paura che il film non esca in appunto in italiano nel senso voglio ho paura che non esca quindi non so dovete dirmi se sapete dov'è se sempre se c'è da qualche parte sapete se c'è da qualche parte quindi ditemelo pensavo che riuscisse a salire questo e niente raga quindi fatemi sapere se anche a voi piace soprattutto SAO perché allora vi dico un attimo cosa mi è piaciuto la parte che mi è piaciuta di più è la parte iniziale come penso a tutti praticamente la parte iniziale è la parte più bella quando sono nel mondo catturati non si catturati tra virgolette dove non possono scappare tutto quella parte lì è la più bella ovviamente perché è quella comunque più particolare più quasi nuova perché non so se è originale o cosa però per me era originale non avevo mai visto cose di quel tipo e mentre la seconda parte della prima stagione era comunque carina anche se una cosa che mi stava sul culo erano le orecchie nel senso le fate a me stava sul culo le fate in generale elfi fate cazzate varie con le orecchie da gay di merde quindi solo per quello non è che mi aveva fatto impazzire però comunque non era malissimo e la storia in generale era fatta bene era un po' ovviamente fantastica perché uno che fa una roba simile non esiste però è figa l'idea appunto di questa realtà virtuale dove poi vabbè andiamoci volevo risparmiare il tempo per il topic e niente raga quindi e mentre la seconda stagione è carina soprattutto no la seconda stagione non è né bellissima ma neanche brutta è una via di mezzo è carina è godibile tranquillamente l'ho vista anche quella lì subito praticamente e la cosa brutta è che tolgono un po' prendono nella prima parte nei primi tre quarti di film sì di film di serie solo Kirito come protagonista mentre nell'ultima parte prendono Asuna e gli fanno fare la scenetta con la bambina e basta e quindi boh hanno diviso un po' i personaggi però per il resto chi se ne frega e niente raga quindi questa è quella che la mia storia è un attimo sugli anime e appunto su Sword Art Online che è bellissima vi lascia un like iscrivetevi al canale e ci vediamo un prossimissimo video bello